Segnali positivi arrivano in ambito denunce e infortuni sul lavoro a Padova. I dati elaborati da Inail Open Data rivelano un calo del 1,4% nel 2017 rispetto all'anno precedente. Sono infatti 13.432 nel 2017 e erano 13.621 nel 2016. I settori in cui l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha registrato le maggiori denunce nel 2017 sono industrie e servizi con ben 11.039 infortuni denunciati, suddivisi in ambito di competenza edile 566 in calo del 13% rispetto all'anno precedente, metallurgia 633, sanità e sociale, settori con maggior occupazione 604, trasporti e magazzinaggio 595, hotellerie e ristorazione 324. La fascia più colpita da infortuni va dai 35 ai 54 anni. Inaspettatamente in controtendenza a ciò che si immagina, la maggior parte dei decessi in ambito lavorativo non avviene nel luogo stesso di impiego ma in etinere, cioè lungo la strada, ben 14 nel 2017. Doveroso sottolineare un importante dettaglio, sono 2.225 infortuni nel 2017 avvenuti utilizzando il proprio mezzo e 388 utilizzando quello adibito per compiere il lavoro stesso per un totale di 2.613 infortuni. È inoltre corretto ricordare che le maggiori patologie denunciate nel nostro territorio sono legate a patologie muscoloscheletriche del tessuto connettivo, sistema nervoso e uditivo. Dati negativi invece arrivano dal Veneto, in cui si registra nei primi tre mesi del 2018 già 26 decessi rispetto ai 22 dello stesso periodo 2017.